24 ore dopo le dimissioni di coach Asapetrovic, la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ha scelto il suo nuovo allenatore. Sarà il 51enne Luca Banchi a guidare la VL sabato sera nella trasferta di Venezia. Il tecnico Grossetano, attuale commissario tecnico della Nazionale Lettone con cui è sottocontratto fino al 2023, ha diretto oggi il suo primo allenamento in una Pesaro che rappresenta un ritorno in Italia dopo anni di esperienze internazionali divise fra Germania al Bros Bamberg, Grecia alla E.K. Atene, Russia alla Locomotive Kuban fino all'attuale incarico in Riva al Baltico. Per la VL si tratta di un innesto tecnico di esperienza, curriculum e di un palmares che ha visto Banchi vincere lo scudetto a Siena e Milano prima di interrompere il suo percorso in patria nel 2017 a Torino. Ora avrà il compito di risintonizzare una squadra avviluppata in tante problematiche culminate col congedo di Petrovic. Scosse sismiche nel basket, pallone che invece è rotolato anche di martedì sera nel calcio e nel calcio a 5 con un turno infrasettimanale nel segno del pareggio per Vispesero e Italservice impegnate le lunghe trasferte in notturna maturate con due risultati diversamente gratificanti. A Chiavari l'ha visse allungato la sua striscia positiva raggiungendo 5 partite di fila senza sconfitte. Contro Lentella, retrocessa dalla Serie B, è arrivato il primo 0-0 della stagione. Un pareggio che soddisfa la Vis che ha saputo arginare con solidità e sofferenza un avversario affamato di riscatto. La Vis che continua a godere di un rendimento che la colloca nella colonna di sinistra della classifica, tornerà in campo sabato al Benelli con il Gubbio. Ritmo partita ancora più serrato per Italservice che venerdì sarà al palladino pizza per ospitare Manfredonia dopo che martedì sera ha affrontato la trasferta veneta in casa del Came Dosson terminata col primo pareggio della stagione che ha interrotto la striscia di tre vittorie consecutivi in avvio. Ma poteva andare peggio perché la squadra di Colini ringrazia un missile di Cuzzolino che allo scadere di partita ha fissato il punteggio sul 3-3 definitivo dopo una contesa in altalena fra i gol pesaresi di Canal e di Oliveira rimontati dalle retti del Came che già annusava lo scalpo dei campioni d'Italia. Giovedì mattina intanto Italservice sarà all'RDS Stadium di Rimini per la presentazione del main round di Champions League che la vedrà impegnata dal 27 al 30 di ottobre.